amici di inter fan tv fc internews.it bentornati da michele borrelli alle nostre rubriche ballottaggi e formazione il giovedì antivigilia già perché a dicembre l'inter gioca sempre di sabato vi propongo un paio di ballottaggi uno a centrocampo e uno per il ruolo di terzino sinistro ha giocato nelle ultime bene santon da terzino però attenzione anche ai possibili alle possibili scelte di allegri per quanto riguarda il ruolo di ala destra quindi nagatomo o santon o a sorpresa d'albert io voto al momento nagatomo pensando a una juve con quadrato ecco in ottica quadrato anche se santon sta giocando bene increscendo quindi un ballottaggio di difficile soluzione poi ovviamente spalletti li vedrà in tutti gli allenamenti e saprà decidere ovviamente meglio di noi a centrocampo borca valero trequartista davanti alla difesa trequartista lascerebbe spazio a vesino e gagliardini nel caso in cui invece gioca più dietro giocasse più dietro borca valero potrebbe esserci spazio per brozovic dal primo minuto titolare a me stuzzica di più queste ipotesi con magari un po più di imprevedibilità brozovic trequartista borca valero vesino davanti alla difesa gagliardini o brozovic quindi il secondo ballottaggio che vi propongo poi la vostra formazione completa io dico la mia andanovic in difesa quindi d'ambrosio scriniar miranda che torna dalla squalifica e nagatomo perché penso che giochi quadrato davanti alla difesa borca valero e vesino candreva brozovic e perisic nel 4-2-3-1 dietro i cardi la juve proponiamo anche un po di alternative per la juve perché stranamente non abbiamo una certezza per quanto riguarda la formazione ma nemmeno proprio il modulo perché allegri sta alternando il 4-2-3-1 dell'anno scorso al 3-4-3 anche una soluzione nuova se gioca con un difensore in più ma la proposta nelle ultime partite a partite in corso o il 4-3-3 che per esempio ha usato a napoli con matuidi che dire pianic ha detto lo stesso allegri dopo olimpiaco su ventus che potrebbero giocare i giocatori più freschi quindi tante possibilità ne parleremo venerdì nelle nostre trasmissioni seguiteci a interagire a obiettivo inter di sera interagire nel pomeriggio naturalmente iscrivetevi al canale ma soprattutto votate per quanto riguarda questa rubrica la vostra formazione titolare dell'inter i due ballottaggi nagatomo santon e brozovic o cagliardini e per concludere anche uno sulla juve 4-3-3 4-2-3-1 o 3-4-3 secondo voi allegri cosa sceglierà queste le domande un saluto da michele borrelli ci vediamo venerdì ciao forza inter